Il consumatore si è trovato un attimino in difficoltà, si è realizzato che si è trovato un attimino in difficoltà perché andando al supermercato o ovunque potesse comprare patate da consumo, comprava patate utili per tutti gli usi, alla fine ritornando a casa e cercando di friggere le patate non otteneva il risultato sperato. Per cui con questo tipo di confezione, riuscendo a fornire il mercato per 365 giorni all'anno con la stessa varietà e con la stessa confezione, il risultato sicuramente è stato diverso. La reazione sul mercato è stata ottima, anzi superiore alle aspettative, in quanto il consumatore dopo aver comprato per la prima volta questo tipo di confezione e questo tipo di varietà è ritornato a ricomprarla, per cui anche il venditore ha compreso che il progetto, il concetto era sicuramente valido e quindi ha cercato di aumentare la distribuzione di questo prodotto e noi prevediamo che in breve tempo tutto il territorio sarà coperto da questo tipo di confezione e di prodotto. Grazie. 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 Grazie.